Siamo qua, passiamo qua, in tutto ciò c'è il dialogo comunque, si vede che c'è gente e poi arriviamo qua, o giriamo qua il tavolo, o giriamo tu. Se facciamo tutto questo in 30 secondi domani siamo ancora vivi. Abbiamo sfondo, guarda, abbiamo sfondo, la signora, il tavolo viene coperto totalmente da spigalino, il che vuol dire mettiamolo un po' più. Fa una cosa, fatti da dietro. Ok, scena 107, 107, 2 prima. Silenzio, fate finta di parlare e azione. Allora spiegate qui, un piano è talmente facile, come puoi fare magari tu? Tu devi seguire un furgone mantenendoti a debito a distanza. Ma sembra il tempo che ti devo mettere. Ad ogni modo, io accosterò, mi metterò da parte questo furgone e farò in modo che Sanchez mi segua, in modo tale che tu, se ci sperti la scelta, ti metti al ladro con voi. Tutto chiaro? Ma scusate, Romano, ma dove non troviamo la scelta? Grazie a tutti.